Ben trovati all'appuntamento con l'informazione La Cronaca. In apertura i carabinieri hanno dato seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma anche agli arresti domiciliari, nei confronti di 10 persone coinvolte in un traffico di droga tra Floridia e Solarino. I dettagli in questo servizio. Prende il nome di operazione Basito, quella portata a termine all'alba dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Siracusa, 10 le persone finite in manette con altrettante ordinanze di custodia cautelare. Le misure sono state eseguite dai carabinieri ed emesse dalla GIP del Tribunale Siracusa, 4 in carcere, 6 a domiciliari. Su richiesta della Procura sono state attivate le indagini sulla commissione di reati di detenzione illecita e cessione in più occasioni di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver concorso in più di 5 persone e di aver consegnato gli stupefacenti anche a giovani, soprattutto minorenni, tra il febbraio e il maggio dello scorso anno a Floridia. La complessa attività di indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Lucignani, nasce in seguito a mirati servizi di osservazione della liquida operativa della Compagnia dei Carabinieri, oltre al pedinamento soprattutto nel territorio di Floridia, a causa di un continuo via vai di mezzi nelle vicinanze di una stazione di servizio, soprattutto nelle ore notturne, sul tratto di strada che collega Solarino con Floridia. In buona sostanza, l'analisi dei tabulati relativa al traffico telefonico degli indagati, la captazione di intercettazioni telefoniche ambientali e la ricerca di relativi riscontri delle conversazioni ha consentito di acclarare che gli indagati acquistavano, trasportavano e cedevano ripetutamente a diversi soggetti sostanze stupefacenti, alimentando numerose piazze di spaccio. Nell'acquistare la droga in appoggio si ha credito per poi ripagarla successivamente con la vendita e la ricarica sul venduto, tutta valendosi di diversi rifornitori, soprattutto nella zona di Catania. Uno degli è arrestati, peraltro sfruttava la figlia minore di 16 anni, per di più in stato di gravidanza, sia per rifornirsi di sostanza stupefacente, sia per pagare i debiti contratti con i fornitori stessi. In manette sono finiti quattro floridiani, due fratelli Carrubba, Paolo e Salvatore, Paolo Carrabino, Sebastiano Iacono e ancora gli arresti domiciliari, Siriusani e Carmelo Varano, Gianluca Bordonaro, Christopher Scandurra, Daniele Romano, Daniela Iacono e Lavolese Luigi Lanzillotta. Intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che pedinamenti, hanno caratterizzato l'attività dei carabinieri che per diversi mesi, nello scorso anno, hanno preso di mira i dieci indagati. Ci spiega tutto il comandante dei carabinieri provinciale, Luigi Grasso. Comandante, un'operazione che ancora una volta conferma quanto sia diffuso il fenomeno della droga nell'immediato interlandazione. Sì, è stata un'operazione importante che ha consentito di smantellare, individuare, smantellare un importante giro illecito legato al mondo degli stupefacenti, ancora una volta legato appunto alle droghe. Una rete di spaccio molto attiva nella zona di Florida, di Solarino, con assuntori e comuni che provenivano da quasi tutta la provincia, anche da Siracusa stessa. C'è il particolare dell'utilizzo anche dei minori? Sì, questo sodalizio ha impiegato, ha utilizzato una ragazza di 16 anni, tra l'altro in stato di gravidanza, quale corriere per trasportare sia lo stupefacente sia anche il denaro illecito provento dell'attività. Le piazze dove stiamo parlando di Florida e Solarino non sono del tutto inedite? Guardi, si tratta di un fenomeno abbastanza esteso, abbastanza presente in provincia. Abbiamo avviato tutta una serie di attività anche nel sociale, proprio convinti come siamo che sia importante contrastarla con ogni mezzo. Attraverso azioni condivise, di piena collaborazione fra istituzioni, l'autorità giudiziaria e la flettura sono al nostro fianco in questa attività di assoluta prevenzione del fenomeno. Il corpo di Polizia Municipale questa mattina in festa, in Piazza Duomo, anche in concomitanza con il copatrono San Sebastiano. Vediamo meglio il servizio, come è andata questa festa. Oggi San Sebastiano, compatrono della città e protettore dei vigili urbani, parata del corpo in Piazza Duomo e banda musicale a celebrare l'attività degli uomini in divisa che si occupano del rispetto del codice della strada ma anche della sicurezza in città. È una festa importante che racconta che cosa? Oggi è la festa di San Sebastiano, sì, e anche quest'anno ci onoriamo di rappresentare il corpo dei vigili urbani nelle sue varie sezioni. Per me è anche importante essere qui stamattina perché il mio comandante che mi ha chiesto di sostituirlo stamattina non c'è. Il corpo dei vigili urbani cosa rappresenta per la città di Siracusa? Spesso magari c'è un rapporto conflittuale perché sono coloro che fanno rispettare le regole per esempio per strada, però c'è poi anche un'altra parte delle vostre azioni che sono quelle di intervento, anche di supporto della legalità in città. Sì, è vero, più delle volte veniamo indicati come quelli che fanno le multe, le multe, le multe, però siamo sul territorio H24 e siamo presenti ovunque, in qualsiasi settore. Noi abbiamo il settore della Nona, della Polizia Ambientale e altre sezioni, però chiaramente il più delle volte siamo anche presenti dal punto di vista sociale. Una famiglia senza tetto che trova riparo ormai da qualche giorno al parcheggio Talete, una storia di degrado in pieno centro storico. Parcheggio Talete all'uscita di Ortigia, di solito qua si viene a posteggiare, chi viene a posteggiare lo fa poi per andare a viversi in qualche maniera il fine settimana festivo, si va a mangiare una pizza, si passa una serata con gli amici, però qui all'interno del Talete, le immagini alle nostre spalle iniziano a raccontarlo, c'è chi vive una situazione di disagio da oltre un anno. una famiglia che non ha trovato altra sistemazione che stare qua nel ventre della costruzione alle spalle del mare con ciò che ne consegue in termini di freddo, sono i due signori accanto a me, non hanno scelto ma non possono che vivere all'interno del Talete. Qual è la vostra situazione? La nostra situazione è brutta, Sebbe, perché giustamente voglio una casa, sono anche donna e le mie esigenze ce le ho, anche lui, Sebastiano, ma ha da un anno e mezzo che non ci aiuta nessuno, nel comune, neanche Macco d'Arascio e via di centro. Parlando della Caritas, che comunque è il posto dove voi andate a prendere le cosiddette buste o per trovare qualcosa da mangiare, com'è vivere dentro una sorta di castello di cemento? Ma ovviamente non è una cosa bella perché è umidità, freddo e come ha detto poco fa mia moglie, non si può vivere in questa situazione, è una situazione troppo indecente. Avete anche dei bambini che non stanno con voi, sono in comunità e questo è uno dei motivi per cui anche vorreste in qualche modo trovare se possibile almeno uno dei due un lavoro per poter in qualche modo dare qualcosa ai figli. Certo, io vorrei, a parte che facevo le pulizie, li farei sempre, ma ho un figlio che è stato affidato a una coppia di Floridia e adottato possibilmente anche una bambina autistica di sei anni che vorrei portarmela a casa, come ha detto il giudice di Catania, ma tutto questo non vedo che si muove l'autorità di Siracusa, nessuno. Come vivere tagliati fuori di fatto dalla società? È brutto, è brutto, è brutto vivere fuori dalla società perché la gente vive agli immagini, cioè non si rende conto della nostra situazione. Magari che è una casa, a me non mi interessa com'è questa casa, anche popolare ci vado ad abitare con Sebastiano perché Sebastiano è anche sofferente a parte tutto questo, ha le sue sofferenze. La cronaca a Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione l'imprenditore Francesco Giarracca, priolese, ritenuto responsabile dell'uccisione dell'amico ed ex socio Giancarlo Tringari. Sentiamo. Diventa definitiva la condanna a 25 anni e 10 mesi di reclusione per l'imprenditore Francesco Giarracca che doveva rispondere dell'omicidio dell'amico ed ex socio Giancarlo Tringari, ucciso a colpi di pistola nel sonno in una camera del Residence Porti Priolo, gestito dallo stesso imputato la notte del 25 marzo del 2012. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal legale difensore, l'avvocato Salvatore Terrone, che sosteneva un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, ha confermato il verdetto della Corte d'Assise d'Appello di Catania. A sostenere l'accusa in aula è stato il PM Antonio Nicastro che aveva ottenuto in primo grado la condanna di Giarracca all'ergastro, poi riformato in secondo grado. La difesa ha puntato molto sull'inconsistenza del movente addotto dalla pubblica accusa affermando che gli orari degli spostamenti di Giarracca, rilevati tramite il GPS, non combacerebbero. Sul rilevamento della presenza di Giarracca all'alba successiva all'omicidio nei pressi della stazione centrale di Siracusa, dove poi è stata rinvenuta la vettura della vittima, la difesa ha sempre sostenuto che, pur ammettendo la circostanza, il suo assistito era semplicemente transitato per la via, ma non si era fermato. Dalle indagini eseguite dai poliziotti del commissariato di Priolo, era emerso che Giarracca accusava l'ex socio di avergli fatto un torto, mettendo all'incasso un assegno dalla cifra importante. Eccoci alla seconda parte del telegiornale, presentata a Siracusa la Società dei Radicali Elio Vittorini, primo presidente, alla Centro Lapira proposte le direttive etiche e sociali del Movimento. Nasce a Siracusa la Società dei Radicali Elio Vittorini, primo presidente. L'associazione ha come finalità la progettazione e lo sviluppo di iniziative culturali, sociali e inerenti la salute pubblica e l'ambiente, ma anche quella di promuovere e coordinare le iniziative e le battaglie sui diritti civili dei radicali italiani nel territorio delle province di Siracusa e Ragusa. La Società dei Radicali, Elio Vittorini, primo presidente, ha l'ambizione di essere un luogo di incontro, di dialogo, di confronto nel segno della laicità dello Stato, dell'attività libertaria delle forze politiche, delle forze culturali e infine della non violenza. C'era bisogno di un luogo di confronto aperto, di un tavolo che si aprisse non solo a democratici e radicali, ma fosse accogliente rispetto a tutti coloro che avessero delle curiosità da sviluppare. Ecco, speriamo di essere coerenti con questo nostro manifesto iniziale. Abbiamo avuto degli incoraggiamenti da parte dei radicali a livello nazionale, da Mina Welvi, piuttosto che Gianfranco Spadaccia. Voglio da qui mandare un saluto a Marco Cappato, di cui in questi giorni ho apprezzato, e credo con me moltissimi italiani, la battaglia a favore del DJ Falbo, che abbiamo seguito anche in televisione. Nuova riunione fissata per mercoledì per risolvere la questione delle guardie giurate in servizio al Palazzo di Giustizia di Siracusa, l'incontro tra l'azienda, che ha avuto un affidamento al servizio, e le organizzazioni sindacali. Fumata nera al tavolo di confronto tra la Vigil Trinacria e le sigle sindacali Fisaskat, CISL, Wiltux e UGL. La riunione era stata convocata per scongiurare i paventati tagli al personale di guardia Nia al Tribunale di Siracusa, nonostante l'apertura da parte dell'azienda a diverse opzioni ritenute praticabili, che come sostenuto dalla Vigil Trinacria importerebbero un modesto sacrificio per tutte le unità aziendali in termini di orario di lavoro, in alternativa per alcune delle unità, il cui contratto a termine, essendo cessato, potrebbe ripartire ma con orario ridotto. Le parti non hanno trovato un accordo, è stato fissato il nuovo incontro che dovrebbe tenersi giovedì prossimo. La strada si preannuncia in salita, è scritto in un documento della Vigil Trinacria, perché un irrigidimento della posizione dei sindacati, che pare serpeggiare in fase propositiva, potrebbe ragionvetuta a costare il posto di lavoro ai quattro lavoratori in esubero. L'impresa, a fronte dei tagli operati dal Ministero sul Monteore e dalla cessazione di due cantieri per le gravi inadempienze contrattuali di due committenze, ha mostrato ampia disponibilità alla salvaguardia dei posti di lavoro. Ad oggi, scrive l'azienda, tuttavia si resta in attesa di conoscere quali siano le determinazioni dei sindacati cui è stata richiesta una riduzione modesta degli orari lavorativi, spalmata su tutto il personale, in alternativa a un contratto parzializzato o ancora una mobilità interna. La palla passa alle organizzazioni sindacali, che dovranno sciogliere le riserve rispetto al riassetto organizzativo dell'impresa, che ha lanciato una significativa svolta di distensione a fronte delle aspre polemiche che mettevano in forze la volontà di risolvere in maniera ottimale la problematica. Parliamo di calcio, Siracusa che gioca questa sera in casa alle 20.30, quindi alla Desimone contro il Rende, una giornata di campionato che arriva dopo una lunga sosta di campionato a punto. Dopo la lunga sosta il Siracusa riparte questa sera sotto i riflettori del Desimoneo, aspitando il Rende, ad un solo punto dagli azzurri. Posta in palio è il quarto posto. Si riprende con un ambiente turbato dalle dichiarazioni del patrona Reduseo che, oltre ad aver provocato qualche incomprensione, hanno instillato qualche dubbio su un probabile futuro tutt'altro che azzurro. Nonostante ciò c'è fermento intorno alla squadra con i tifosi che chiamano a raccolta i più scettici. Il dato certo è che il Siracusa occupa pur sempre la quarta posizione alle spalle delle tre corazzate e che con alcuni correttivi potrà giocarsela dignitosamente sino al termine. La finestra di calcio mercato vede intanto la probabile uscita dell'attaccante napoletano Salvatore San Domenico, direzione Trieste o San Benedetto del Tronto e la cessione del centrale difensivo De Vito ha prodato alla Viterbese. Sul fronte arrivi pare ci sia stato un interessamento per Giuseppe Madonia, ma è molto probabile che l'esperto attaccante rimanga alla Virtus Francavilla. Intanto la società azzurra sarebbe vicina a El Asni, centrale difensivo in forza alla Triestina, che andrebbe a rimpiazzare il posto lasciato dalla partenza di De Vito. Ma il clou del calcio mercato per il Siracusa gira intorno ai nomi di Parisi e Magnani, il secondo richiesto anche da Società della Massima Serie. La sfida di questa sera tra Siracusa e Rende, con inizio alle 20.30, sarà diretta da Alessandro Meleleo di Casarano con gli assistenti Antonio Spensieri di Genova e Pierluigi Mazzei di Brindisi. La ventiduesima giornata prevede questa sera alle 20.30, l'anticipo Siracusa-Rende. Domani alle 14.30 il Big Match Lecce-Catania. Alle 16.30 Agragas-Monopoli, Juve-Stabbia-Catanzaro, Resinfondi e Virtus Francavilla-Regina-Paganese. Alle 20.30 Casertana-Fidelisandria-Cosenza-Matera-Sicula-Leoncio-Trapani. Riposa il Bisceglie. Adesso parliamo di motocross perché la Retusa Team che si è riorganizzata ha già dato le indicazioni per quanto attiene la programmazione delle gare, delle competizioni ma anche degli allenamenti per il 2018. La Retusa Team Young Riders è una nuova realtà motoristica siracusana che prepara un 2018 ricco di appuntamenti. Giuseppe Latina è il direttore tecnico oltre che meccanico della neonata scuderia siracusana che non manca di soffermarsi con i ragazzi in pista per determinate prove di destrezza sulla moto. Il team è nuovo ed è riservato ai giovani fino a 17 anni. Quasi interamente siracusano se si considera che il solo Manuel Polizzi è di Enna. Viene dato un supporto ai piloti al fine di poter partecipare ad altre categorie. Poi c'è uno staff di 12 persone fra genitori e figure professionali come Giuseppe Profeta che fa da manager grafico e che in passato con un siciliano ha già vinto il campionato italiano di mini cross. Rappresentano la fusione di tante esperienze e mettono a disposizione una serie di servizi oltre il fatto che tre motoclub Lanteri di Noto, presente da 30 anni, motoclub Siracusa da 20 e motoclub Pegaso Siracusa da quasi 10, sono poi gli intermediari con la federazione per ottenere determinate licenze. Con quali prospettive in vista in questo nuovo anno? Ci sono le selettive del campionato italiano il 3-4 marzo, poi dieci giorni dopo quelle per il campionato europeo. Adesso sono le priorità, poi se rimarrà a tempo, anche con le prove del regionale. Il vecchio anno si è chiuso nel migliore dei modi per tutte le società siracusane. Ci sono stati molti titoli regionali a dimostrazione che Siracusa è una delle province con il più alto numero di piloti e titoli vinti. Tre motoclub si sono piazzati nei primi dieci nel campionato regionale a squadre. Il motoclub Pegaso ha vinto il titolo. Secondo il Saro Italia di Canicattini, anche il motoclub Lanteri di Noto nei primi dieci. La provincia di Siracusa offre gli spazi giusti. Ci si allena nelle piste convenzionali con i salti e nei terreni sabbiosi per fare resistenza. Siracusa è la prima provincia, come i pianti, tra Noto e Lentini dove si può gareggiare. Tivoli a pochi passi da Siracusa e Melilli per gli allenamenti. Tutte piste che possono richiamare eventi di grande livello. Adesso riprende oggi la rubrica Punto e Capo. ospite di questa prima puntata dell'anno, il segretario generale della Wiltec, quindi i chimici che aderiscono alla Wiltec, Andrea Botar. Questo subito dopo il TG in studio. Grazie, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.